Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR grazie per aver scelto questo video rilassante oggi torno dopo un po' di tempo con un video della tipologia show and tell quindi un video in cui provo a farti addormentare mostrandoti alcuni oggetti che ho acquistato dal sito di YesStyle in questo caso ti ho già parlato del sito di YesStyle in qualche altro video si tratta di un sito che è molto 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 famoso per la vendita di prodotti di skincare coreana ma in realtà vende un sacco di altre cose anche accessori, abiti, articoli per la casa e oggi appunto voglio mostrarti qualcosa di molto molto carino che ho preso approfittando di un coupon nell'info box naturalmente trovi sia il link al sito che il mio personale codice sconto che puoi utilizzare se vuoi per fare acquisti proprio su quel sito bene, adesso non mi resta che augurarti buon relax mi raccomando tu indossa le cuffie e ti stenditi scegli un posto comodo per poterti rilassare al meglio se l'idea di questo video ti piace ti chiedo solo di lasciare un mi piace per farmelo sapere e naturalmente se ancora non sei iscritto o iscritta a questo canale fallo cliccando il bottone qui sotto e naturalmente schiacciando la capa nelina per non perdere i prossimi video rilassanti detto questo, iniziamo allora, 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 ho ben due pacchetti il primo è questo una confezione di pluriball e contiene la parte più succosa dell'orla quindi gli oggetti secondo me più interessanti mi potranno piacerti di più ma te li mostrerò dopo perché prima voglio farvi vedere questo un altro pacchetto con dentro una zaino io ho già iniziato ad aprirlo ma continuo con te con le mie nuove forbici e voilà eccolo eccolo è uno zaino color lilla desaturato e pan all'interno all'interno ha una tasca molto grande per mettere il pc portatile e varie altre tasche qui davanti anche una cintura e il suono della zip mi piace sempre molto quindi provo a farvelo ascoltare attaccato attaccato a questo zaino quindi dovrei avere alcuni gadget questi questi fanno parte sempre dello zaino ma devo appunto attaccarli il primo è questa rossetta di peluche morbidissimo buonissimo carino poi abbiamo un altro charm con un cagnolino ecco una spilletta con un aeroplano e qui c'è una pellicola che provo a togliere eccolo un astronauta un UFO con una navaliere e questa che ha a che fare con il pane bene conclusa la parte dello zaino passiamo adesso a questo sacchetto dal quale inizio a prelevare subito la scatolina più grande che è questa forse potrete già intuire dal packaging cerco di che cosa si tratti come vedete è raffigurato sulla confezione uno scettro lunare e qui c'è scritto Miracle Romance Makeup Tint Gloss Sailor Moon ora Sailor Moon è stato uno dei miei anime preferiti durante l'infanzia quindi ha voluto prendere alcune cose ispirate a questo personaggio in particolare qui abbiamo come potrete vedere un lipgloss non vi mento l'ho già provato e lo sta indossando in questo momento guardate quanto è bello trovo che sia ASMR anche solo nella confezione tutto clitterato così e ha un profumo buonissimo di fragolo ed è anche molto leggero molto confortevole io di solito preferisco avere il vero i rossetti matt a qualche volta mi piace anche indossare il lucido sulle labbra e poi questo è veramente irrinunciabile già guardate è meraviglioso tra l'altro lo scettro lunare è stato uno dei miei giocattoli preferiti da bambino wow e sempre per rimanere il tema Sailor Moon ho preso anche questo qui c'è scritto Sailor Moon Multicare Color Lip praticamente questo è ispirato credo alla serie del Cristallo del Cuore se non sbaglio fatemi sapere e si tratta di una specie di rossetto o un balsamo per le labbra racchiuso all'interno di questa confezione carissimo guardate dietro è così davanti c'è questo cristallo del cuore molto prezioso e carino anche da portare in borsetto se si vuole questo è il colore e anche questo ha un profumo buono non vanigliato però è un tipo di sapone alla fragola e non l'ho ancora provato questo quindi non so dirvi come sia la pigmentazione però se volete posso farvelo sapere su instagram a proposito se non vi seguite ancora su instagram seguitemi mi chiamo sempre veri asmr e su instagram vi aggiorno molto più frequentemente rispetto alla mia vita come sta andando situazione traslog eccetera vi ricordo vi ricordo anche di seguirmi su bico live se volete vedermi in una veste un po' diversa mentre faccio streaming sopra praticamente ogni giorno e vi racconto un sacco di fatti miei quindi questo sempre rimanendo in tema makeup ho preso questa ink velvet che è sostanzialmente una tinta per labbra e guance e la confezione fa un bel suono anche qui e ha preso la 09 dovrebbe essere un rossofragola ecco è fatta così loro lo definiscono sparkling pink però io ho provato è vero che va sfumato perché altrimenti ecco altrimenti si fissa poi no però secondo me dà più sul rosso che sul rosa perché ne dite sembra proprio un colore fracolo quasi fluorescente e questi li apprezzo soprattutto per le guance perché ho notato che hanno un'ottima ottima ottima tenuta ok poi poi sempre per rimanere in tema curate il viso e bellezza ho preso ben due maschere due maschere per il viso idratanti nutrienti sono queste irresistibili guardate che packaging una è a latte e cocco e l'altra è a no scusate una è a latte e cocco e l'altra è a latte e caffè o latte al caffè non lo so sono quelle in tessuto e credo che abbiano delle profumazioni pazzesche quindi non vedo l'ora di provarle anche di queste vi farò sapere qualcosa in più su instagram e mi raccomando andatemi a seguire dietro ci sono tutte le istruzioni per l'applicazione quale vi attira di più? quello al cocco quello al caffè a me piace più questo ho tantissime maschere non vedo l'ora di provare anche questo bene infine chiudendo questo video ho preso tre articoli diciamo per la casa perché yesstyle appunto vi dicevo è un sito molto famoso per la skin care coreana e a proposito vi ricordo che vi lascio giù nell'info box il link per raggiungere il sito e se volete fare degli acquisti anche il mio personale codice sconto in modo da poter comprare più cose possibili allora per quanto riguarda gli acquisti extra diciamo per la casa ho preso questa confezione di stelline luminose che vorrei forse forse posizionare sulla parete dietro di me ancora non ho ben capito come settare il mio sfondo per i video ci lavorerò un bel posto conoscendomi però questa è un'idea che mi è sempre piaciuta quindi stelline luminose non so se hai riusciato a vedere poi ho preso questo voi direte che cos'è? in questa bustina di plastica è contenuto questo oggetto che serve per organizzare i cavi e dei cavi tipo della caricabatteria del telefono si inseriscono tra queste fessure e dietro c'è un adesivo per poter attaccare questo oggetto in silicone al comodino oppure alla scrivania a un cassettiero dove volete insomma mi sarà molto utile e infine una cosa che a dire il vero sarebbe stata molto utile nella vecchia casa ma non in questa ma mi sono arrivate tra l'altro ben tre buste piene di queste cose io non ricordavo assolutamente di averne ordinate tre ma tant'è vi spiego che cosa sono intanto magari potreste provare a indovinare allora questi aggeggini in silicone servono per proteggere le persone e gli animali dagli spicoli delle finestre io nella vecchia casa avevo una finestra molto ampia che si apriva nel salone e aveva uno spicolo che mi è sempre un po' inquietato e quindi avevo in mente di acquistare appunto questo per proteggere me e soprattutto Jesse da eventuali strani colpi ci sono sempre stata molto attenta però questo mi avrebbe resa più sicura a dire il vero è un'ottima ottima ottima idea secondo me però credo che in questa casa non serva non lo so vedremo bene ragazzi spero 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 che il video vi sia piaciuto che vi siate rilassati magari qualcuno si sarà anche addormentato se siete arrivati fino a qui mi raccomando fatemelo sapere lasciando un commentino un vostro pensiero felice e ditemi se c'è qualcosa che vi incurisce sul sito di YesStyle qualcosa che vorreste provare vi ricordo nell'info box il link al sito e ovviamente il mio codice sconto se volete usufruirne per fare acquisti per il resto niente noi ci vediamo come al solito se ne va nel prossimo video bacini fatosi ci vediamo ciao ciao